Il 29 e 30 ottobre a Sugologone in Sardegna si è tenuta la conferenza dei G7, servizio di Maurizio Ciotola. A Sugologone c'era il gota internazionale della scienza con le importanti istituzioni locale e statale che nell'accogliere l'importante convegno dei G7 sulla ricerca hanno rimarcato e indicato il sito di Sosenatos in Sardegna come possibile e ospicabile il luogo dove ospitare l'Einstein Telescope. Le istituzioni ovviamente nel volgere lo sguardo a 360 gradi per capire cosa potrebbe determinare un investimento di oltre un miliardo di euro sul territorio pressoché intatto di Lula hanno effettuato anche una computanalisi sulle ricadute scientifiche e tecnologiche per il paese oltre che per l'isola. Ricadute molteplici, in primis quelle di un considerevole indotto che graviterebbe intorno ai laboratori del centro mondiale chiamata ad ospitare il telescopio gravitazionale per secondo, ma di immensa e più importante rilevanza, è la ricaduta scientifica e tecnologica di statura mondiale. Patto questo che permetterebbe una svolta alla nostra terra e ai suoi abitanti in fuga per le condizioni di depressione economica e le ridotte contingenze finanziarie inerenti di investimenti scientifici. Chiunque sa che questa opera dalle dimensioni significative avrà necessariamente un impatto, la cui attenzione in fase di realizzazione e soprattutto i frutti inequivocabili che essa potrà garantire costituiscono un'unica e assoluta sintesi cui regioni e popolazione convergono senza esitazione alcuna. Perché se è vero che l'antropizzazione del territorio può determinare inconvenevoli, è pur vero che l'oculatezza e l'attenzione con cui essa può e deve essere sviluppata potrà sempre portare dei benefici di gran lunga superiori alla mancata realizzazione. Tesi a cui si dovrebbero attenere qualsiasi opera umana tesa a migliorare e a trasformare condizioni compromesse dall'antropizzazione avvenuta in passato senza alcun riguardo per il futuro, oggi nostro presente senza un futuro.